Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto a chi ci sta ascoltando attraverso lo streaming della nostra web radio. Un saluto a chi ci sta invece guardando attraverso il nostro canale YouTube, la nostra pagina ufficiale di Facebook. Dai nostri studi in via HV3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura di oggi del settimanale L'Amico del Popolo. Come sempre però prima di iniziare leggiamo assieme la frase del giorno per quanto riguarda la giornata di oggi, ovvero di sabato 11 gennaio 2020. La vera misura di un uomo si vede da come tratta qualcuno da cui non può ricevere niente in cambio. Samuel Johnson. E con questa citazione addentriamoci nella lettura di oggi del settimanale L'Amico del Popolo. Diamo subito uno sguardo ai titoli presenti in prima pagina. L'edizione di questa settimana si apre con una notizia riferita al Comelico da parte della provincia di Belluno. Consiglio provinciale in Comelico martedì 14 gennaio. Una seduta straordinaria dedicata ai vincoli paesaggistici. E ancora dalla prima pagina oltre 2 milioni per la stazione di Polpetta. Questa è anche la foto che apre la prima pagina del settimanale L'Amico del Popolo. Il cantiere al sito da RFI Rete Ferroviaria Italiana in stazione a Polpetta. Altri richiami della prima pagina. Anche in provincia viste le difficoltà e le chiusure. Piccoli negozi. Necessità di aiuto. Belluno Valbelluna. Neve Gallica rilancia le sue proposte. PM10. Sforamenti entro il limite. Questo per quanto riguarda Feltre e Feltrino. Ampezzo Cadore. In demolizione la fabbrica Lozza. A Gordino da Campregana. 8.000 euro al Ceod. Longarone Zoldo. Bancarelle tutte in piazza Tasso. Al Pago. Poiatte. Nuovo puntile quasi pronto. Iniziamo a leggere l'edizione di oggi. Quindi del settimanale L'Amico del Popolo. Che si apre con la consuetta rubrica in provincia e nel mondo. Bertone. Si parla di Confindustria Belluno Dolomiti. Sì all'area metropolitana Veneta ma con attenzione alle zone montane. Ancora dal 7 al 31 gennaio. Scuola al via il periodo delle iscrizioni. Incontro di orientamento con la regione. Il 15 a Feltre. Dalla chiesa locale. Da 276. Naufraghi. Trattati con gentilezza. Al movimento ecumenico contemporaneo. Tutto questo nella settimana che va dal 18 al 25 gennaio. Settimana appunto di preghiera per l'unità dei cristiani. Dalla solidarietà. Memoria delle tragedie del Novecento. Dall'Olocausto alle guerre nei Balcani. Scuole in rete per un mondo di solidarietà e di pace. Organizza un nuovo evento dedicato alla memoria. L'ASD Algozer per l'Assionlus. Sostegno allo sport per disabili. 5 mila euro per il progetto Dolomiti Orizzonte Paralimpico. Dalla vita missionaria. Israele proprio a Bethlehem e Suor Beniamine è tornata al padre. Grazie Suor Beniamina per il tuo esempio e l'affetto per tutti coloro che hanno lavorato e vissuto con te. Passiamo adesso alla rubrica dai nostri paesi. Incominciamo con Belluno. In giunta si miele al posto di GANZ. Deleghe a energia, ambiente, agricoltura e mobilità sostenibile. Medico di medicina generale. Siede in consiglio tra le file di In Movimento. E ancora il Piano Neve 2019-2020 è online dal nuovo portale Carto accessibile ai cittadini e ai turisti. Tutto questo è online accessibile a tutti i cittadini. Il Piano Neve 2019-2020 è visualizzabile dal portale Carto del Comune di Belluno all'indirizzo www.carto.belluno.nuvolagis.it. E ancora da Belluno, Neve Gallica rilancia a fondo schirole sci alpinismo. I progetti dell'associazione che si è presa a cuore la montagna di Belluno a Garaboni. La voglia di lavorare non ci manca. Servono però meno burocrazia e lungaggini. Per chi ci sta guardando da Facebook e YouTube alcuni scatti che rappresentano i mezzi di Neve Gallica in Faverghiera dove i volontari dell'associazione, nella foto piccola a Garaboni, padre e figlio, sono impegnati quotidianamente. La meticolosa mappatura dei troi del colle. Un altro approfondimento in merito al colle del Neve Gall. Sentieri distrutti da Valle sfruttiamo Neve Galloc. Neve Gallica cerca anche collaborazioni per sviluppare l'ambizioso progetto. Dalla Valbelluna, a Borgo Valbelluna, è nata la Valbelluna Servizi SRL. La fusione tra Lentiai Servizi ed SP1 Servizi gestirà i 300 servizi per l'anziano di Lentiai, Mel e Tricchiana. Da Ponte delle Alpi, invece, nuova caldaia all'asilo di Piaia. È stato fatto questo aggiornamento. La protesta del capogruppo di opposizione a sedico, invece, una notizia che riguarda la destra Piave. Che fine hanno fatto le e-bike, lo chiede Alessandro Buzzati, per la stazione di Bribano. Sempre dalla Valbelluna, sempre Ponte delle Alpi, in stazione a Polpet, anche il parcheggio scambiatore. Partiti gli interventi di riqualificazione. Anche qui le immagini che ben rappresentano la situazione della stazione ferroviaria di Polpet, che RFI sta ristrutturando con un investimento di 2 milioni e 200 mila euro. Tra Tricchiana e Sedico, invece, Ponte San Felice, ad aprile i lavori. Vedete che la situazione è in difficoltà in diverse parti che sostengono, appunto, il Ponte di San Felice. Il degrado delle arcate in Calcestruzzo. In alcuni punti sono messe a nudo le verghe di ferro all'interno. Feltre, parco della rimembranza verso la rinascita. Dopo i danni provocati da VAIA, affidato l'incarico di progettazione e direzione dei lavori nella riqualificazione dell'area, verrà coinvolta anche la sezione ANA di Feltre. E ancora da Feltre, insieme le famiglie del centro città, le famiglie delle parocchie del Duomo, di Santa Maria, degli Angeli e del Sacro Cuore, si sono unite nella celebrazione della Santa Messa della Sacra Famiglia, quando? Domenica 29 dicembre. Ancora Feltre, inquinamento, PM10, sfioramenti entro il limite previsto. È il secondo anno consecutivo che si verifica questa condizione, fatto mai accaduto per l'assessore comunale Bonan, fondamentali le buone pratiche dei cittadini. E a Feltre invece commosso, saluto a Don Bardin, Don Diego lascia le tre parrocchie del centro, domenica 12 alle 16 la prima Santa Messa del nuovo parroco. Ancora Feltre, ottica frescura sulla piazza da 100 anni. E sempre dal Feltrino, siamo ad Alano, il centro servizi per anziani alla Fondazione Sant'Antonio Abate, per volere della diocesi di Padova, la parrocchia sollevata da responsabilità di gestione. Notizie anche da Sovramonte, contributi a negozi e associazioni, per maggiori informazioni basta visitare il sito del comune di Sovramonte, Arson, San Mauro, escursione Santa Messa, lunedì 15 gennaio. Ancora dal Feltrino, spostiamoci a Seren del Grappa, a casa di riposo, Soteria, bilancio inattivo, tutti occupati, 65 posti letto disponibili, che con un ampliamento diverranno 75. Da Santa Giustina invece ricordo e festa per gli Alpini, anche quest'anno il gruppo Sezione Zollet dell'Associazione Nazionale Alpini si è ritrovato in prossimità delle feste natalizie, per un momento di ricordo e di festività. Villa Bruna torna alla festa di San Marcello, Aumin, alpini amici del Cazel e dava i tanti volontari impegnati. Passiamo adesso alle notizie che riguardano il Cadore e l'Ampezzo. Siamo arrivati a pagina 19 del settimanale L'Amico del Popolo. Cominciamo con Cortina, Codivilla, le basi per il futuro. Si lavora per la completa ristrutturazione, attività spostate al Putti. Il sindaco ha incontrato Ettore Sansavini, presidente del gruppo GVM. Ovviamente questo riguarda l'ospedale presente nella Conca d'Ampezzo. Sempre da Cortina, 100 giovani premiati dal Comune, stanziati 31 mila euro per il 2019, gli universitari hanno 32, l'anno prima 26. Calalzo, la lozza in demolizione, la fine dei lavori fissata per il 30 aprile. Al suo posto sorgerà un supermercato con parcheggi. E da Calalzo ad Auronzo, bambini di 0-3 anni, per loro c'è il Nido, il nuovo servizio attivo da martedì scorso. Cadore e Comelico, due progetti per dare lavoro. A Comelico superiore San Nicolò, variati dalla regione del Veneto, i beneficiari, dopo un periodo di preparazione, saranno affiancati nella ricerca. Da Santo Stefano, anche il Comelico per la piccola Elisa, una serata di solidarietà per aiutare la famiglia a Roma con la bambina. E da San Pietro di Cadore, il mercatino di Natale servirà per la chiesa. Siamo arrivati alla Gordino, pagina 23 dell'Amico del Popolo. Quattro interventi per 160 parcheggi a Polane. La riqualificazione favorirà i lavoratori della Luxottica. Il Comune ha messo in conto una spesa complessiva di 500 mila euro. E sempre da Agordo, lavoro in vista per l'ex Pretura. Il Comune prevede il risanamento e successivamente l'adeguamento e la sistemazione dell'intero edificio dei locali dell'ex Pretura. Ancora Agordo, Campregana dona 8 mila euro al Ceode, ricavato dell'iniziativa dello scorso aprile al Molin della Pipi. Ancora da Agordo, tante notizie in questa edizione dell'Amico del Popolo. La vai che urla, pienone per il film. Mirko Mezzacasa, anche gli attori, ha condotto la presentazione. Il thriller è diretto da Lucia Zanettin, già regista dell'opera su De Rigo. E a Dalle che invece moriva 50 anni fa Silvano Del Negro, il 22 gennaio del 70, in zona Trecimi di Lavaredo, nel corso di una uscita comandata. Perdeva la vita il ventenne Silvano Del Negro, alpino di leva, esploratore nato ad Alleghe il 22 giugno del 49, in forza al battaglione d'arresto Val Cismon, allora inserito nell'organizzazione tattica della brigata Cadore. Longarone, bancherelle tutte in piazza Tasso, entro metà gennaio cambia posizione al mercato del venerdì. Si concretizza un'idea di tanti anni fa della prima amministrazione padrin. E ancora da Longarone, Longarone premia gli studenti meritevoli, l'amministrazione intende aggiornare il regolamento e allargare la platea. Da Fusine di Val di Zoldo invece nelle opere di Bianchi, L'anima della natura. La mostra è rimasta aperta fino all'8 gennaio, con successo di pubblico. Siamo arrivati all'Alpago, Poiatte, nuovo puntile quasi pronto, progetto partito su proposta dell'Associazione Pescatori Sportivi. I lavori finiranno tra alcune settimane, la struttura è attrezzata per i disabili. E sempre dall'Alpago il bilancio di previsione e tassa di soggiorno da giugno 2020. La Mosano di Chies sogna nel cassetto un corso solo per donne, lo ha svelato De Zaiacomo, consegnando i diplomi per l'uso della motosega. Siamo arrivati alla rubrica in famiglia, come sempre è presente l'articolo dedicato a firma di Don Gigetto De Bortoli, dagli schermi danni al cervello, il dato reso ufficiale sulla rivista JAMA dell'Associazione Medica Americana. Ancora dalla famiglia Belluno, a Regnier Premi Eco Sostenibili, due classi si sono impegnate nella pulizia di alcuni angoli della città, Comune e Belluno, ma hanno consegnato Borracce e una sportiva riutilizzabile. Dalla cultura, come non uccidere i lettori, al liceo classico scientifico, al Vise Lollino, la proposta provocatoria e assieme costruttiva di Davide Rondoni. Il poeta Davide Rondoni interviene a Lollino venerdì 17, alle 18.30, sul tema letteratura contro. Ancora dalla cultura, Borca di Cadore, bibliografia di croatto, 87 anni da linguista, 110 lavori firmati dall'autore del vocabolario ladino veneto di Zoldo. Da Pieve di Cadore, Fondazione Tiziano, il cuore batte per Venezia, dopo l'acqua granda di novembre, si stringe il legame con Save Venice. E prima di terminare questa edizione di Ricola Belluno, leggiamo le pagine sportive a firma dell'amico del popolo. Siamo arrivati a pagina 33, incominciamo con il calcio, sconfitte per le bellunesi più quotate, solo partite perse dalla DIA, la promozione in prima vince solamente Limana. Per la tattica leggera, un ottimo esordio alle gare di Padova, tutto questo per gli sportivi bellunesi. E ancora in più di 500, alla corsa della Befana di Pedavena che si è svolta la settimana scorsa. Altre notizie di carattere sportivo, Scalpino, Tricchiana e Drusche, tra ragazzi e allievi, Scinordico, Passarella, Affeltre. E con questa notizia termina l'edizione di oggi di Ricola Belluno, come sempre quella del sabato è dedicata alla lettura del settimanale, scusate l'amico del popolo. Vi ricordo che torneremo in replica via streaming questa sera alle 20 e domani mattina a luna. A tutti voi un buon proseguimento di giornata e come sempre in buona compagnia di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Grazie a tutti.